E sono di nuovo qua, sto cercando di ammazzare il Giuggernaut, se no mi ammazza prima lui Porco cane, aiuto Dov'è? Giugger Giuggernaut? Where are you? Allora tu sei mio Tu, stupido Elicotterino Dei miei stivali Aiuto Quasi ammazzato Ok Cisioni 5 e 4 Oh yeah Oh yeah A che livello sono? Oh, 23 Non ci gioco male No Cos'è che devo prendere? SMK46 Dai, non sono tante queste Perdoe che non fosse morta io Double Do Do, l'ultimo Oh mio Che Stanca che sono 11 e 20 Oh mio dio Cos'è che ha fatto? Cos'è che ha fatto? Ma dai Rambo Cosa stava facendo questo qua? No ma io torno là Allora Bala, vada, 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 vada Oh mio Dio, aiuto, aiuto Oh mio Dio, aiuto, 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 aiuto Ma che cazzo Di chi è quello che dai, moro? Comunque, ricarico Ok Che c'è quello bravo che mi copra Eh, guarda Oh mio Dio, aiuto, aiuto, aiuto Dai Eh, la Peppa, quanta gente che c'è Quanta gente Double Merda Merda Rambuccio 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 Eh, non è ancora morto Dov'è? Eh, dove sta Dai, sposta, ti Rambo Dai, spostati Ok Non facciamo come Esatto, così Rambuccio 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 Dai, fateli arrivare Fateli arrivare Oh, adesso arriva un po' di gente anche da qua Dai che c'è voglia di ammazzare qualcuno Sì, ma dai, non mi fanno ammazzare nessuno Double Cioè io dovrei fare anche matematica Oh mio Dio E via DC4 qua DC4